Un libro che insegna le tecniche della lettura ad altavoce, quelle per leggere forte. Il volume Tecniche per la lettura ad altavoce, 27 suggerimenti per la fascia 06 anni, curato da Federico Batini e Simone Giusti ed edito da Franco Angeli, è stato presentato alla presenza dell'assessore regionale all'istruzione Alessandra Nardini. Il libro arriva due anni dal lancio del progetto della regione toscana, leggere forte ad altavoce, fa crescere l'intelligenza, iniziativa nata per favorire la lettura nelle scuole. Dalla Toscana davvero una buona pratica che speriamo di vedere diffondere, su cui noi sicuramente continueremo a credere e a investire. È un progetto che parte e raccoglie, interessa a tutte le scuole di ogni ordine e grado, dai nidi addirittura fino alle scuole secondarie di secondo grado, proprio perché sappiamo quanto sia importante promuovere la lettura e quanto sia anche uno strumento questa politica che abbiamo messo in campo contro la dispersione e l'abbandono scolastico che favorisce il successo formativo, scolastico ma anche personale delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, a partire proprio dai nidi e dai più piccoli. La pandemia di Covid non ha fermato il progetto. Nel 2020 sono stati formati 5.900 docenti ed educatori toscani per la fascia di età fino a 6 anni e 650 per quella prescolare. Il volume presentato fornisce indicazioni utili su come rendere più efficace la lettura d'altavoce a partire dai piccoli dei nidi d'infanzia. Questo libro propone di fatto 27 mattoncini, 27 microtecniche che possono essere adottate in maniera facile per migliorare l'impatto della lettura d'altavoce, soprattutto per migliorare l'attenzione, la comprensione, la partecipazione dei bambini e delle bambine ma anche l'ampliamento verso l'esterno. La ricerca sul campo ha dimostrato che ascoltare la lettura d'altavoce sviluppa l'attenzione, le abilità relazionali, il pensiero critico e l'autonomia di pensiero.